Rifiuti una denuncia del Movimento 5 Stelle dopo che la Regione ha dato il via libera all'ampiamento della discarica ASA di Castelmaggiore, insieme in provincia di Bologna. Il Movimento 5 Stelle è pronto a portare il caso in procura, in quanto sostiene Silvia Piccinini, consigliera regionale pentastellata, che ha presentato un'interrogazione sul caso. Dopo la pubblicazione della delibera i lavori potrebbero già partire nel giro di pochi giorni, commenta Piccinini. Quello che verrà realizzato sarà un ampliamento che porterà la discarica all'altezza di 23,45 metri sul piano di campagna, cioè un palazzo di otto piani. In questo modo la Regione fa della legge sull'economia circolare del nuovo piano rifiuti, approvato poco più di un anno fa, carta straccia. Le parole dure di Silvia Piccinini. Il sistema regionale delle discariche non solo non va verso un progressivo azzeramento, prosegue la consigliera pentastellata, come annunciato da Bonaccina e dall'assessore Gazzolo, ma si moltiplica aumentando volumi e quantitativi disponibili, così la consigliera del Movimento 5 Stelle.